Su un lontano pianeta, che alla Terra somiglia, i boffi e le boffe hanno messo su famiglia. Ci sono boffini di ogni sorta nella stessa cucciolata, c'è chi è come i genitori e chi ha una forma inaspettata. Il fatto è che i boffi sono bestie speciali, sono tutti diversi, non ci sono due uguali. Questa gran varietà li ha salvati fino adesso, ed è certo il segreto del loro successo. I boffi vissuti nel tempo che fu erano molto diversi, non gialli, ma blu. E il collo che oggi è così affusolato, allora era corto e alquanto tarchiato. Ma perché, vi chiederete, sono cambiati così tanto? Cosa ha allungato il collo e mutato il manto? A che cosa sono dovute le loro trasformazioni? Viaggiamo nel passato per scoprirne le ragioni. A che cosa sono dovute le ragioni.